Ciao ragazzi, questa immagine che vi sto facendo vedere sul mio computer è una delle due copertine che noi su Facebook stiamo cercando di scegliere per il mio prossimo libro, il mio undicesimo libro che ho scritto sui cani. Il titolo di libro sarà Cani da guardia, come liberarsi dai ladri per sempre e questo mio nuovo libro però ha una cosa particolare che io l'ho scritto apposta per voi e per regalarvi. La prossima settimana il libro ha circa 200 pagine e voi potrete andare su Amazon e scaricarvelo gratis. Però su Facebook in questo momento noi stiamo facendo un sondaggio perché siccome è un libro che ho fatto per voi vorrei che foste voi a scegliervi la copertina che vi piace di più. Allora questa è la copertina A ovvero la prima che io ho messo nel sondaggio e questa è la copertina B quindi tanto per capirci meglio questa dove c'è il cane che sta per razzanare il braccio del ladro con il coltello è quella A. Quindi se vi piace più questa dovete mettermi nei commenti qua di YouTube che preferite la A. Se invece vi piace più questa dove si vede la bocca aperta del cane con il ladro sotto dovete mettere B. Ho pensato di farvi questo filmato perché so che molti di voi che avete YouTube in poche parole non avete Facebook perché quando mi telefonate spesso me lo dite però non volevo lasciarvi fuori da questo sondaggio perché siete migliaia di persone che mi seguite. Quindi tanto per capirci e ve lo spiego meglio ancora questa è la copertina numero A quindi se preferite questa che io metterò la prossima settimana nel nuovo libro che ho scritto per regalarvi dovete scrivermi nei commenti. A. Se invece preferite questa mettete nei commenti B. Ci conto anche sui vostri commenti perché stiamo facendo un sondaggio su tutti i social sia su Facebook, su Instagram e anche su YouTube. Quindi aspetto le vostre preferenze perché noi domenica sera sommeremo tutte queste preferenze e decideremo di mettere o questa copertina in definitiva su questo libro che ho scritto per voi proprio per regalarvelo parlerà appunto di come utilizzare i cani da guardia, come farli diventare più efficaci, come allevarli affidabili perché il cane da guardia è molto utile contro i ladri ma specialmente perché il cane da guardia come dire è il miglior sistema per poter vivere al sicuro. Vi parlerò anche in questo libro della psicologia del cane ma poi nel filmato se andate a vedere vi ho messo anche il sommario con tutti gli argomenti. Adesso cosa mi interessa è solo farvi votare fra questa copertina che dovete indicarla con A e questa copertina che dovete indicarla con B. Vi ringrazio della vostra partecipazione al sondaggio e vi auguro buona giornata. A presto.